Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Croggiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte, dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Guglia Splendente, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che sono certo attirerà l'attenzione di molti aspiranti re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Croggiolo. In questo episodio il mercante consiglia il double pack del sesto atto del TCG di One Piece, Wings of the Captain. La scatola presenterà l'immagine di Zoro e Sanji Secret, con i loghi della casa produttrice e i vari marchi registrati, il tutto su sfondo nero sulla parte frontale, il titolo del prodotto in questione, con anche qui i loghi della Bandai e delle diverse informazioni utili riportati sulla parte superiore, il solo titolo del TCG con il Jolly Roger dello stesso Sanji su trama mappata raffigurato sul lato destro e di Zoro su quello sinistro, ed il contenuto dell'articolo con tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale. Una volta tolto il cartoncino che conterrà il corpo principale, quest'ultimo rappresenterà la stessa grafica della copertura sulla parte frontale, con l'unica aggiunta del titolo del prodotto sulla linguetta di apertura. La sola icona del gioco, con i soliti loghi della Bandai e delle diverse informazioni utili riportati sulla parte superiore, e le immagini di Reiju e Perona, la prima in versione alternative e l'altra regular raffigurate sul dorso. Una volta aperta la confezione, al suo interno troverete due booster pack del set di riferimento Wings of the Captain, che questa volta, devo dirlo, mi hanno davvero regalato gioie, infatti al loro interno ho trovato rispettivamente un Moria ed una Perona SR, che di sicuro mi torneranno utili per montare il deck del Re delle Tenebre o potenziare direttamente quello del Grand Ammiraglio, ed uno special don card pack, dove potrete ottenere uno dei due don di riferimento che riporteranno, per il primo, la scena che vede Sanji accettare la sfida di Ivankov sull'isola di Momorio e la richiesta di tutoraggio da parte di Zoro nei confronti di Mihawk avvenuto sull'isola di Quaraigana. Quindi, dopo aver visto il contenuto di questo prodotto, parliamo di alcuni aspetti da prendere in considerazione, partendo ovviamente dalla reperibilità. Il double pack sarà molto difficile da trovare, e se riuscirete a metterci le mani sopra, il consiglio che vi do è quello di tenerlo sealed, dato che i due booster potrete recuperarli singolarmente, e i don acquistarli su siti accreditati come CarTrader o CarMarket, o, ancora meglio, reperirli da qualche giocatore della vostra zona che ne avrà due uguali. Il suo prezzo indicativo si aggirerà attorno ai 10 euro, fonte sito ufficiale. Ma non badate troppo a questa informazione, la decisione finale spetterà al rivenditore, quindi potrete trovarlo a 15, come 20, come 30 euro. Ma qualsiasi sia la cifra, se riuscirete a recuperarlo attorno alla ventina, prendetelo senza pensarci due volte e tenetelo chiuso in un luogo sicuro. Tenete presente che questa tipologia di articoli il più delle volte avranno un valore intrinseco simile a quello dell'articolo stesso, calcolando che i solidon varranno di minima 10 euro l'uno, perciò piuttosto che aprirli e tentare la fortuna anche con i singoli pacchetti, recuperate tutto singolarmente e pace fatta. Ma quindi, Arconte, converrà acquistarlo? La risposta è sì, ma solo per collezione, o almeno così è come la penso io, anche perché voi che potrete farlo, a tenerlo sigillato intendo, fatelo e soprattutto se riuscirete a trovarlo. Già perché questo, come quello di OP05, risulterà davvero difficile da reperire e quindi un altro consiglio che vi do sarà quello di agire in anticipo. Per OP07, prenotatelo durante il preordine e assicuratevene una copia. Prima di concludere, volevo ringraziare Loop Games per aver fornito l'articolo trattato in questo contenuto. Come sempre, tutti i riferimenti li troverete in descrizione. Concludendo, il double pack risulterà essere un valido acquisto per collezionisti, mentre per chi gioca, lo ripeto, tutto quello che qui sarà contenuto potrà essere recuperato singolarmente, sia Booster che Don. Quindi, aspiranti re dei pirati, se ne avrete la possibilità, aggiungetelo alla vostra stiva a far compagnia al vostro già vasto tesoro. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!